Un periodista che ha fatto il sogno di abbastanza tempo e ha avuto un interesse di intuazione che non ha fatto il caso. Ma il più importante è che è realizzato quello che ha avuto il soggetto. Algo che sta andando per abbastanza tempo. Il momento in cui ci siamo arrivati a un soggetto che ci siamo arrivati a un soggetto. Tutti le cose che ci passano per abbastanza tempo largo. E mi dico che è la responsabilità per mantenere di fronte. Quando mi dico che ci sono criticando anche l'indirizazione delle persone che lo stanno dirigendo. E' una persona che è un'unico 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 che è un'unico. datos del momento, è la possibilità anche alla istruzione di quel contratti di unそ, ad esempio la imatprocessi da un subiettivo notorre. Comunque ci sarebbe un problema tempo che ci siamo stati, ma si trar vinti, davanti alle problemi. È unaaghetti con un'unico che ci siamo stati tratati, un'unico che è tratato da soluzione l' outro mano. Perché noi stiamo lottando, nemmeno, ce nemmeno è stato ripartito. e per tal motivo ora che non abbiamo ancora la fama, ma è un po' più pesante. Quindi è buono per realizzare il manejo di un istituzione che è stato un luogo di responsabilità di qui a messe e di un paio di sicurezza, di un luogo di luceia e ci sono amici di tutto il manejo di cui è arrivato, di cui è stato un po' di direzione. Il suo rapporto è una cosa più importante, ma come devo prendere il suo rapporto per come che era il mio rapporto, ci sono un'indicazione che aveva diversi ed è l'aspetto che non è stato svegliato, non bisogna fare un rapporto a quella che può essere narciata nella sprensazione, ma è stato un po' di un'analisi in attore, faiato nel lavoro di cui è concezione e gradualmente non st'acrattando nel solutionare questo problema. Perché è molto buono quando c'è un buono di un ruolo di sensazione, arriva qualcosa avendo lì, andiamo insomma insomma in un corso di contenere, e non lo scopriano in questo motivo è lazione di un ruolo di attenzione. con gente. Lo che asociata con alcuna persona ha deciso di subito al DAC e vai protestare e come quiera con la parazione di daño e libertà, non si decide che non si vada a nada. Se lo citano un DAC di BATON, non si vada a libertà durante il giorno. Il problema è che non si vada a una instituzione per dare motivo che non si vada a fare medita contare. Come quiera con la libertà, crea una situazione viciosa di sicurità che non come se vada a nada, ma non si vada a nada. E' un momento che non si vada a una persona che non si vada a una persona che non si vada a una situazione in Lattino dell'America. Siete ponenze sono inolite ridicoli e mi risposta che non si vada a persone che si vada a un'accessione e che crea un'esfera che non si vada a una impressione che cosa più che è, assolutamente, ma che non si vada a una cosa responsabile di fare. E' una altra banda, ma che vada a un piano che si vada a una persona e non si vada a un'escarga a non criticare, non apposare a nessuna gente direttamente riva lo che è socio di di protezione di sicurezza di l'instituzione che ho fatto l'ultimo anno perché mi ti sei sicuro se non sono scopo e passi sei e anche la mia critica portata di periodista nella mia scuola senti non offendo la mia scuola, non offendo la mia scuola, non offendo la mia scuola perché mi ti spero che il messaggio non acclapesano che crea una sfera che non d'existir l'instituzione che è una scuola che va a fare un periodo largo e non ottimale che questa scuola è una scuola che quando si arriva alla tre scuola che hanno una normalità in un cammino di vita, è sicuro che questa è stata la tua ultima anno però se non avrei avuto i bambini, mi ti senti solo, mi avuto i bambini e mi avuto i bambini e ora è anche un numero di fami, di tutta cosa che ci sono sapere che c'è un'altra persona che ci prende in ordine, mi ti spero che non ci sia un periodista che ti senti a me, personalmente, o fatti Se c'è una situazione, Camilla, che ci sono attraversa con la BlackBerry di un'instituzione di telefono, non abbiamo bisogno di informare, per esempio, che ci sono attraversa con la persona attraversa con la persona attraversa con la BlackBerry di un'instituzione e che ci sono attraversa con la mia concentrazione più drastica, ma come ci sono attraversa con la persona attraversa con la BlackBerry, così, come ci sono attraversa con la persona attraversa con la un'instituzione. e la direttore attuale che non mi ha detto direttamente di VCI che ha scannato che ci mostrano che le persone che si tratta di un'instituzione nel momento in cui si è aperto l'instituzione, nel quale non si tratta di controllo severo che non si tratta di porto, non si tratta di controllo qui e per questo motivo ci si tratta di telefono 40 a 30 che non si tratta di un sistema che si tratta di controllo nuovo e il gruppo che si tratta di cabine di ULAMA e si tratta di una metà per l'Altaporte 6 non si tratta di un motivo di controllo extra severo che si tratta di una persona con due cellulare che si tratta di scuola in sala e si tratta di un'instituzione che si tratta di un'instituzione che ci sono stati un po' malcontente con persone che ti chiamo direttamente a comunicare con la prensa. Non ci sono qualcosa che non ci sono, ma ci sono stati 30 anni, ma ci sono stati un po' malcontente, ma ci sono stati un po' malcontente, ci sono stati a procurare per un chilometro, ma ci sono stati un po' malcontente, e nel tempo la instituzione stagione ha un po' malcontente e che ci sono stati molto fortunati per cui ci sono stati un po' malcontente, ma sono stati un po' malcontente e che ci sono stati un po' malcontente di questo tipo di scuola in un'instituzione e questa è una luce contro questo, ma in un periodo che non si sta in un periodo, è un periodo in cui abbiamo trovato altre persone responsabili della prisione e altri ministri responsabili della prisione. Ora abbiamo visto che abbiamo fatto un po' di tempo, un po' di analisi, un po' di cambiare, perché c'è un po' di costruzione che abbiamo fatto un po' di tempo, ma poco poco non è e quindi fanno una teoria di come cosa sta in una prisione. Ora-l' 실� e questo non è una persona che può essere pensato e si può controllare la situazione. E se si può avere una tranquillità, però se vuoi mantenere un po' più tranquillo. Quando ci sono un po' più attività, si possono avere un po' più attività di questo tipo di problema. Per esempio, questo è quello che porta parte di controllo più stretto e sentirsi più iniziati per riazionare se vuole. Lo stesso modo, è che il gruppo di persone responsabili di un'instituzione per il loro studenti, e poi il gruppo di ministro, se a caso dovrebbe perdere una lata che è, che tipo di cosa hai, però se dovrebbe avere una situazione che sta bene, quando non ci sia un paio di direzione, non può essere un paio di via. Non ciò che sia realizzato, ma che attacchi di un'attaccia di un'attaccia di un'attaccia di un'attaccia di un'attaccia che si può dire, direttamente nella presentazione di un periodista contro di questo tipo di domanda mi sa che era una somma che non si era però mi chiede se non c'è un caso se non c'è un caso se non c'è un caso se non c'è un'avviso avrei un'analisi che abbiamo messo e mi raccoglio il rapporto che avevano ora qui se non c'è un caso se non c'è un caso se non c'è un caso ma ora qui può mostrare come deve essere nella stessa direzione mi chiede a persone non critiche non si mi chiede a una critica con base mi chiede a essere sicuri e mi contribuisce al desarrollo e mi raccoglio di qualità per essere sicuri ma ora mi chiede a una battaglia mi chiede a essere preparata ora qui ma mi chiede a essere ancora e non c'è ora qui ne c'è un caso in questa situazione l'autorità e quindi quanta situazione l'autorità è la sua situazione non c'è una parte è una situazione che è stata ma in basso tempo non funziona come ottimale, ora che poco a poco non sta ganando perché il funzionamento di direzione è corretto, ma è una questione di comunicazione e di comunicazione con il lavoro attualmente. Quindi è molto importante che si è trovato in un'altra cosa di odissea o in un'altra cosa di istruzione che è, lo che è principale, se le istruzioni tutte le classi, se la comunicazione è ottimale si può trarre, conforme il protocollo di come si tratta di un tipo di istruzione. e non si sente che il lavoro attualmente non è completamente ottimale, ma poco a poco non sta migliorando il lavoro attualmente, mentre spero che dentro di alcuna luna non si tratta di una situazione che è una situazione di comunicazione e la maniera che è ottimale. Tutte le due organizzazioni stanno lavorando e ogni ogni organizzazione ha una certa responsabilità. E questo è un'altra cosa che si è passata, non necessariamente è un'altra cosa che non sta bene, ma che si cominciano a questo momento, è un'altra cosa che non si tratta di comunicazione, è un'altra cosa che non si tratta di un'altra cosa che è ottimale e si tratta di un'altra cosa che non si tratta di un'altra cosa e se non c'è caso, non si tratta di un problema. E' molto semplice, perché non è necessariamente grande o che non si tratta di un'altra cosa che non tratta di un'altra cosa che è affinata a questo punto di sicurità e maniare di un istituzione, ma ora che poco a poco non sta a scoprire il nostro paese, è stato così che app HU, quando all'altro c'è di linea uscione, ma poiловissà come hanno anche, non non si tratta di una cosa che poteva di notizia... ... ma colazione ocari abbiamo visto un'altra cosa che fa non si tratta di fare un'altra cosa che sono più Circ browate di qualche che non è spesso, però se vuoi tenere a conto che il rischio è un po' di cuore e vuoi mirare anche con alcune cose a parte del manejo e analizzazione da alcune rischi come da quella necessaria di fare. Questo è quello che ora tratta di un'instituzione senza che non ha il rischio, non ha il rischio, non ha il rischio, ma non è un po' di più, ma non conosci come se fosse il manejo, il manejo è un modo di migliorare, non è un modo di migliorare. in questione è il rischio che non ha, non hanno un problema di sicurezza. In certo senzio non è un problema qui non ha il rischio e si tratta di granulare che non ha l'impressionato che ha i sicurezza, che non ha il rischio, non è difficile. Quei dati il rischio è un problema, ma non ho lavorato anche prima. Se vuoi un ruolo per esempio, di una cosa, è dato ancora molto più grave quanto è davvero l'imba è preso una che è semplicemente a subito di un partito, non mi serve per subito, ma non può abbandonare l'instituzione che mi chiede di sicurezza per quanto riguarda l'entrata e protezione dell'instituzione da un'unico da un'unico da un'unico. Molto bene? Il mio ragione è sicuro, sicuro, sicuro. Però non è sicuro come se compara l'estate e si mette con la proposta di un'unico storico e perché sono ora tornato a un ufferdore di prisioneiro, perché è talve assolutamente ridicolo. ci sono condizioni che ci sono soltanto in ogni modo che non c'è nessuna vicenda, allora non si può passare in un periodo più lungo, ma che viene trascendo la prisioneiro. Che ne viene in un'unica spazio, non si può pagare in una porta e non si può passare come su la loro decisione, sono soltanto perché non so. Non so, ma non so se non può fare in un caso che è in un caso di cui, se non si sa in un caso e non so se lo passano più in cui era in una persona che verà in un caso. Non so, si non so se non so, come se fosse che va mai, non so, non so se non si succede in prison. Grazie a tutti.